Nella terra di nessuno, c'è spazio per andare in contropiede, si spingono avanti, vediamo cosa inventa, e no può colpire, e c'è ancora un gol! Tre gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Un assist delizioso Fabio, avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi, è un vantaggio notevole. Grazie per la visione!